Ci scrive la signora Roberta Palmirotta di Putignano. Vicino a casa sua, nelle campagne a ridosso della zona industriale, ci sono questi tre cassonetti dell'immondizia. Purtroppo, ci dice la telespettatrice, anche quando i cassonetti vengono svuotati, tutto intorno rimane una vera e propria discarica, con il materiale che proviene dalle case di campagna del circondario, ma soprattutto dagli stabilimenti industriali. E pensare che a Putignano c'è un centro comunale di conferimento rifiuti che è gratuito, ma forse non tutti i rifiuti di questa discarica possono essere smaltiti normalmente. Comunque, a Putignano abbiamo mandato la nostra perla di poppa. Questo è San Michele, Monte Laureto. Siamo nella zona industriale alle porte di Putignano. Poco fa è passato il camion della nettezza urbana e questo è il risultato. I cassonetti sono vuoti, ma tutto intorno lo spettacolo è questo. Sanitari rotti, tegole, materiale edilizio vario, copertoni di macchine abbandonati. Signora Palmirotta, cosa c'era fino a poco tempo fa? Allora, fino a poco tempo fa avevamo frigoriferi, avevamo anche televisori tagliati in due, avevamo reti ortopediche buttate addirittura nei cassonetti, avevamo comunque materiale di scarto, di cibo, busse, tutto buttato a terra. Lei che vive da queste parti si è lamentata, ha chiesto spiegazioni, il risultato qual è stato? Il risultato è stato che hanno pulito un po', hanno tolto qualcosa, però come potete ben vedere abbiamo comunque gli Eternit che sono lì ormai da tanto tempo e che comunque sono dannosi perché questa è una strada comunque di traffico. Se ne vedono tante di piccole discariche ai bordi delle nostre strade di campagna, ma questa ha una particolarità. Quello che preoccupa di più fra questi rifiuti sono questi pezzi di tettoia di Eternit. Secondo la stessa polizia municipale, proverrebbero da alcune fabbriche della zona industriale, però nessuno è mai stato sanzionato. Eppure all'ufficio ambiente conoscono bene la situazione. Ogni quanto intervenite per rimuovere i rifiuti? Noi interveniamo quando è necessario in base alla disponibilità di bilancio. Quindi in sostanza ogni quanto? Guardi, non c'è una frequenza tipica, ma almeno due grossi interventi l'anno. Quell'amianto che abbiamo visto questa mattina, da quanto tempo è lì? Quell'amianto è stato rilevato lì da circa un mese. Quindi quando sarà rimosso? Sarà rimosso nel giro di massimo 30 giorni. Bene, peccato che ogni volta che vengono rimossi i rifiuti, anche quelli pericolosi, ricompaiono puntualmente dopo qualche giorno. Ma non si dovrebbe sanzionare chi viene qui a scaricare? Sanzionare è una delle vie, ma in genere i rifiuti non portano nome e cognome sopra. Per cui sanzionare diventa anche molto complicato. Controllare? Controllare, sì. Forse bisognerebbe controllare un po' di più. Ma anche controllare ha un costo troppo elevato per le finanze del Comune, così come costa caro lo smaltimento delle ondoline di Eternit e degli altri rifiuti speciali. È tutto a carico del privato. Ecco perché molti fanno i furbi. Allora, bisogna rassegnarsi? Forse no. Probabilmente diventa necessario un intervento pubblico che possa in qualche modo affiancare i privati nelle spese relative allo smaltimento dell'amianto. Oppure potremmo rubare un'idea ad altre regioni italiane, dove è possibile servirsi di un kit per l'autosmaltimento, completo di maschere, tute bianche e tutto quello che serve per eliminare il cemento compatto misto a fibre. Così, senza rivolgersi a ditte private, ma solo alla ASL, costa decisamente di meno.